Ciao, sono Numa. Sono una cantante, sono un'attrice, sono una produttrice e mi occupo di direzione artistica. Quest'anno ho fondato un metodo che si chiama Io scelgo l'amore. È il frutto di più di 25 anni di studi in tecniche energetiche e di un lungo percorso che anch'io ho fatto con me stessa. È un metodo veramente efficace per ritrovare il proprio centro, la crescita personale, la costruzione del proprio successo e soprattutto la via per lasciare andare i propri traumi nascosti, le proprie credenze limitanti, le paure, tutto quello che ci incatena in un passato e che non ci permette di costruire un futuro. Attraverso Io scelgo l'amore, attraverso meditazioni, sessioni che faremo one to one individuali, troveremo la giusta strada, il giusto percorso per poter guarire da tutto e tirare fuori i sogni che da troppo tempo sono chiusi dentro un cassetto, finalmente per poter realizzare. Impareremo il dialogo interiore, conosceremo il bambino interiore, impareremo meglio cosa significa gratitudine e che cos'è il perdono. Insomma, impareremo anche a lasciare andare tanta zavorra inutile, al fine di ricostruire una vita gioiosa, libera, dove il nostro potenziale si può completamente sprigionare e finalmente la nostra vita può andare nella direzione che abbiamo sempre desiderato.